Gran premio d'autunno Giulianova, domenica 24 ottobre e aspettiamo una flussa di pubblico ma anche di auto di particolare valore. Sì, aspettiamo questi equipaggi che si stanno iscrivendo, stiamo concludendo le iscrizioni, penso domenica ci sarà una grossa rappresentanza di Ferrari, Porsche, Alfa Romeo e anche auto di particolare interesse storico. Il concetto come ogni volta quando organizziamo questo genere di evento è legato sempre ad un aspetto benefico, alla beneficenza. Anche in questa occasione raccoglieremo dei fondi che serviranno poi per fare delle donazioni a due case famiglia, una qui di Giulianova e l'altra a Tortoreto. Vogliamo ricordare il percorso che si snoderà tra Giulianova e Tortoreto? Allora, dunque, le auto finite le iscrizioni, ore 10 si trasferiranno in colonna in territorio della Contrada di Terra Bianca e Tortoreto. Da lì le auto, una alla volta, si muoveranno alla volta di Tortoreto Alto. Dopo un piccolo riordino partirà la seconda tappa che da Tortoreto Alto le trasferirà sempre una alla volta, a distanza di due minuti l'una dall'altra, verso Giulianova. Con l'evento conclusivo del 24, antecipiamo la giornata del 24, al 23, presso il Cursal, dove presenteremo il libro del circuito del Castello. In quell'occasione abbiamo anche un altro evento nell'evento che sarà la premiazione del pilota Riccardo Ponzio e dell'ingegnere Francesco Caruso.